Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come trovare il globo quel globo per sbloccare la pianta di livello 7, 8 e 9 la pianta spettrale, quella che vi serve per potenziare l'incantesimo cioè gli spiriti e quindi molto semplice e le piante qua sembra che arrivano fino al 9 come le pietre da forciatura funerea fino al 9 quindi il livello 10 bisogna trovarle questo è il percorso da fare perché qui dall'altra parte lì dall'altra parte è la strada per uccidere il boss malene e qui invece è un nuovo posto perché io l'ho scoperto due giorni fa e niente qua mi sono fatto 400.000 rune uccidendo tutti questi parassiti e sono morto ben più di 10 volte perché veramente non mi lasciavano in pace e è andato sempre più avanti pensavo che c'era qualche boss una caverna ma invece no sono sceso qua sotto e ho trovato un globo quindi quello globo era l'ultimo che non avevo perché gli altri globi li avevo già trovati e ci avevo già fatto un video quindi se vuoi cioè se vuoi trovare gli altri globi basta che guardi una mia guida come trovare il globo numero 1 e 2 questo mi sembra che è quello del livello 3 quindi una volta trovato questo globo lo portate alla tavola rotonda e vi sbloccherà le piante e avete fatto cioè avete tutte le piante se volete anche tutte le pietre da forgiatura basta che guardate una mia guida è una guida bella lunga ma molto utile ve la consiglio veramente la troverete alla fine del video quindi un attimo che vado là per la strada dal boss Malenia se no qua non posso usare i punti di grazia mi raccomando fate anche attenzione perché questi veramente con pochi colpi ti sciottano io ho la vitalità 63 e 2180 di PV e ti sciottano con 2-3 colpi ti fanno fuori ecco questo è il posto ora vado un attimo alla tavola rotonda perché devo sbloccare le piante ah un'altra cosa se non sapete come arrivarci cioè come arrivare a quel posto l'albero sacro guardate sempre una mia guida l'ho fatto una guida di 4 minuti su come arrivarci eccoli qua eccoli qua la convalaria spettrale di tutti i livelli quindi abbiamo quella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l'ultima quella del 9 poi quella del livello 10 la troverete in giro a Noxtella oppure se ne trovano parecchie quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi lasciate like se il video vi è stato utilissimo iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao